Dal 6 all'8 novembre torna all'Oval di Torino Artissima, internazionale d'arte contemporanea. L'edizione del 2015 presenta una selezione di 207 gallerie provenienti da 35 paesi, dai grandi nomi alle realtà emergenti. La fiera prevede un programma giornaliero di visite guidate e di percorsi, pensato per offrire approfondimenti e nuovi chiavi di lettura al pubblico che si avvicina al mondo dell'arte contemporanea. La città metropolitana di Torino, oltre a patrocinare la fiera, è presente ad Artissima con una panchina realizzata nel 2013 dall'artista Martino Gamper, nell'ambito di Eco e Narciso. Eco e Narciso è un progetto promosso per innescare il confronto tra il paesaggio, attraverso la rete di musei, eco-musei e associazioni che si occupano di cultura materiale, e le discipline artistiche, queste ultime intese come strumento per analizzare le origini della cultura materiale e per seguire il loro sviluppo nella contemporaneità.